Buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata dedicata allo speciale elezioni europee del 26 maggio prossimo. Negli studi di via Torricelli abbiamo oggi Luca Castellini, candidato per la circoscrizione nord-est con Forza Nuova. Benvenuto Castellini. Buongiorno a voi. Partiamo innanzitutto da una domanda così per sciogliere un po' il ghiaccio. Cosa la spinta a affacciarsi su questo palcoscenico europeo e a candidarsi? Quello che ci spinge è sempre la nostra volontà e la nostra volontarietà di fare attività politica per la nostra gente. I forzanovisti non fanno politica per mestiere ma lo fanno per passione. Noi partecipiamo a tutte le competizioni elettorali ma facciamo politica 365 giorni all'anno, non solo in campagna elettorale, nelle piazze, nei quartieri come il popolo italiano già sa. Partecipiamo a questa tornata europea per cercare di entrare nel Parlamento europeo per uscire dall'Europa, per spezzare queste catene, le famose catene di Bruxelles che vanno spezzate senza giri di parole. Ricordiamo alcuni punti imprescindibili del programma politico di Forza Nuova che ha definito e si definisce un partito sovranista. Sì, diciamo che noi siamo il partito sovranista per eccellenza perché dal 97 parliamo come oggi parlano in tanti. Dopo gli altri partiti si sono aggiunti questo aggettivo. Forza Nuova dal 97 parla di blocco dell'immigrazione, non solo degli sbarchi di clandestini ma proprio del blocco dell'immigrazione e di un avvio di umano rimpatrio. Solo Forza Nuova dal 97 parla di tutela della famiglia tradizionale. Solo Forza Nuova dal 97 parla soprattutto di sovranità monetaria, quindi sovranismo. Riprendersi la propria libertà che è la libertà di decidere cosa fare sulle proprie coste, la libertà di bloccare uno sbarco o meno, abbiamo visto stamattina il conflitto tra Salvini e la magistratura, la libertà quindi di emettere moneta, quindi liberarsi dall'euro, dalla morsa, della BCE, queste libertà si raggiungono solo ed esclusivamente uscendo da questa Europa. E oggi nonostante tutti i partiti politici anche di centro-sinistra dicano che vogliono cambiare questa Europa, questa Europa non può essere cambiata, questa Europa deve essere distrutta così com'è e deve essere ridata alle nazioni e ai popoli che devono avere la facoltà di essere sovrani sul proprio suolo, che vuol dire liberi, indipendenti e con la possibilità di fare quello che vogliono fare, non avere un blocco sopra che alla fine è quello dell'Unione Europea. Quindi Forza Nuova concepisce comunque una struttura, una sovrastruttura che unisca in qualche modo anche a livello istituzionale gli Stati europei oppure vorreste proprio eliminare l'istituzione Unione Europea e tornare proprio agli individualismi nazionali? No, Forza Nuova concepisce un'Unione Europea ovviamente basata su principi sovranisti dei singoli popoli, ovviamente un'Unione Europea che tuteli l'interesse dei popoli singolarmente, quindi delle loro specificità, che tuteli l'economia nei confronti dei mercati esteri, della Cina per esempio dei prodotti italiani e che soprattutto si sganci dallo strapotere della Nato, quindi che abbia una libertà anche militare, però che abbia un filo conduttore che è il filo dei popoli europei, che sia quindi dipendente da continenti stranieri che in Europa succhiano il sangue ed impongono, possiamo dirlo, la sostituzione etnica, per esempio. Un'Europa vera dei popoli farebbe il contrario, l'esatto contrario. Uno dei vostri capisaldi è sicuramente la sicurezza. L'avete detto prima, l'ho detto prima, scendete in piazza direttamente tra la gente per rivendicare uno status che sembra essere ovviamente indebolito rispetto al passato, è così? Sì, la sicurezza è un argomento generale che è utilizzato da tutti, però c'è una differenza fondamentale. Io lo voglio ricordare gli italiani e gli elettori, la Lega Nord e il centro-destra, tutti si lamentano di questa invasione, l'Islam, gli stranieri, Forza Nova non fa la differenza tra immigrazione regolare e irregolare, perché alla fine quella irregolare si è trasformata in regolare con le sanatorie. Il business dell'accoglienza, che tanto Salvini attacca, è stato inventato da Maroni, è stato inventato dal centro-destra, da Leggi Bossi Fini. Oggi siamo pieni di stranieri nelle nostre strade e alcuni quartieri ormai sono off-limits perché il centro-destra più del centro-sinistra ha permesso questo. Quindi, io dico agli italiani, prendete la scorciatoia una volta per tutte, lasciate perdere chi fa tanta propaganda e tanti tweet e tanti post Facebook, leggete i programmi. No all'immigrazione vuol dire non solo bloccare gli sbarchi o far finta di bloccarli, vuol dire uscire dall'euro e impedire che arrivino le navi, vuol dire iniziare un umano rimpatrio, vuol dire spendere i soldi per rimandare i clandestini nei loro paesi e utilizzare i soldi per le famiglie italiane e non ovviamente per gestire un'immigrazione, perché la libertà alla fine deve essere nostra. I partiti di centro-destra avranno, Salvini compreso, sempre un padrone sopra di loro, che sarà la finanza o sarà un potere forte che non gli permetterà di mettere in pratica quello che scrive sui tweet. In questa ascesa generale del sovranismo anche europeo, dei partiti, lo ha detto prima, anche in Ungheria e altri paesi, sentite di avere come forza nuova un peso specifico diverso rispetto al passato che potrebbe rappresentare un ago della bilancia anche in questi equilibri geopolitici nuovi e vicini alla destra. Sicuramente il pensiero forzano-vista originario oggi è da pannaggio di tanti cittadini, della gente comune e anche dei partiti comuni che ne fanno uso e consumo a loro uso e consumo. Però il pensiero originale poi deve essere messo in pratica, quindi noi siamo convinti in questo momento storico di essere sulla cresta dell'onda per quanto riguarda le idee che noi propaghiamo e c'è sempre in atto da parte del sistema, attraverso questo cancro che io chiamo antifascismo in Italia in particolar modo, per limitare la nostra forza d'azione, che poi è la forza di idee che ha dato consenso a partiti tradizionali come quelli della Lega, ma che in realtà dà consenso e dà rafforza alle posizioni di una destra radicale che ha visto in anticipo di 10-20 anni quello che oggi sta succedendo. Se io oggi da forza di vista parlo di sostituzione etnica dei popoli europei, Salvini non lo dice oggi ma lo dirà fra un quarto d'ora magari. Senta, siamo quasi verso la fine di questa chiacchierata, avete avuto uno spazio di visibilità anche a livello nazionale durante il convegno delle famiglie che si è svolto a Verona. Chiudiamo con un tema, con un suo pensiero sulla famiglia. Noi sosteniamo da sempre la famiglia tradizionale, composta da uomo e donna, ognuno nel suo letto può fare quello che vuole ovviamente, però è dovere, perché è il problema forse più importante, di una nazione tutelare la propria natalità. Noi scompariremo fra 30 anni, non ci saranno più i bresciani a Brescia o i veronesi a Verona, se non diamo una svolta. Il governo attualmente attraverso il ministro della famiglia Lorenzo che saluto personalmente, ha fatto una spinta, ha avuto questa posizione, sta avendo questa posizione volutamente a favore della famiglia naturale e di sostegno della natalità, però ci vuole qualcosa di più forte, ci vuole uno slancio maggiore. Quindi un plauso a chi ha la volontà di mettere in pratica quello che dice, però la famiglia è il cardine della società, oggi è sotto attacco da più parti, da tutti è sotto attacco in diversi fronti e quindi bisogna essere forti e stabilire delle regole, gli stati nazionali devono farlo, per impedire che qualche soldo in più alla fine sia la soluzione. La soluzione non è qualche soldo in più, la soluzione è che la famiglia deve essere al centro della vita di uno stato, altrimenti questo stato scompare. Lo ho già anticipato in alcuni punti trattati in questa chiacchierata, ma chiudiamo con un impegno personale che Luca Castellini si impegna di prendere nei confronti degli elettori che domenica, 26 maggio, andranno alle urne a votare. Ma agli elettori io posso dire che io non faccio politica per mestiere, faccio due lavori per arrivare a fine mese e non l'ho mai fatta, nonostante sia nelle piazze che nelle strade da 25 anni. Avrete un Castellini Luca, come lo vedete nelle piazze e nelle strade, quindi a dire quello che pensa, senza se e senza ma, lo avrete al Parlamento Europeo, ma quindi lo avrete diverso da un leghista o da un personaggio del centro-destra, che poi ha sempre qualcuno sopra che traduce quello che dice in quello poi che non fa. Forza Nuova invece non è questo, Forza Nuova avrà un suo rappresentante che porterà delle istanze che il movimento Forza Nuova porterà fino alla fine. Ringraziamo allora Luca Castellini per Forza Nuova, candidato nella circoscrizione Nord-Est e ovviamente in bocca al lupo come a tutti i candidati. Grazie.